Allora, forti raffiche di vento, qua più del 70 all'ora non si riesce a andare, senti che roba, oh, mi mancava solo quel vento, non si può fatto mancare niente, probabilmente domani, quando imparchiamo la nave che sarà a Burrasca, ne toccherà ligare la Panda alla barca perché altrimenti ne va in mare, o no Thomas? Vabbè, visto che come siamo fortunati, ci hanno raccontato che qui piove mediamente una volta all'anno, siamo venuti noi e infatti ci hanno benedetto perché gli abbiamo portato l'acqua, ciao ragazzi, vi aggiorneremo!